Mercoledì sera un programma televisivo nazionale ha preso di mira la società Stradivaria perché dal 2007 è stata incaricata di costruire l'autostrada Cremona-Mantova, pianificata dal 2003, senza però approdare ad alcun risultato. Oggi due consiglieri regionali dei 5 Stelle, il mantovano Andrea Fiasconaro e il cremonese Marco degli Angeli, aggiungono ulteriori elementi. Ci sono in tutto 14 persone impegnate in Stradivaria, fra consiglio d'amministrazione e sindaci. Le riunioni sono 10 all'anno, al costo di 250 euro a seduta per ogni componente. In tutto in due anni sono stati spesi 400 mila euro per tenere in piedi la società, sorta come controllata di centro padane e concessionaria dell'autostrada regionale. Stradivaria poi, come è stato sostenuto durante la trasmissione, amministrerebbe solo un campo agricolo che frutta 770 euro all'anno. Da parte propria, il presidente di Stradivaria, Carlo Vezzini, lamenta il pesante taglio subito dalla sua intervista e precisa che in realtà fa il presidente a titolo gratuito. Stradivaria non ha ricevuto alcuna indicazione dalla regione, che ha predisposto a luglio 5 scenari di realizzazione dell'infrastruttura, senza però sceglierne alcuno. Tutto tace anche da parte del Ministero delle Infrastrutture, dove il nuovo ministro Paola De Micheli non ha ancora incontrato la regione, né si è espressa nel merito della Cremona-Mantova. Carlo Vezzini interverrà in Consiglio provinciale domani alle 18 per un'informativa che però, vista la situazione in regione e al governo, non potrà offrire novità decisive. Marco Degli Angeli e Andrea Fiasconaro, da parte loro, sottolineano che l'opera veramente necessaria è la riqualificazione dell'ex Statale 10, non certo l'autostrada, che costerebbe un miliardo di euro, risposta rischiando di diventare una cattedrale nel deserto, perché il flusso di traffico non è mai stato tale da giustificare un'autostrada. Infatti, in Via Giordano a Cremona, il traffico dei giorni feriali non è inferiore a quello sul tragitto Cremona-Mantova, poco più di 20.000 veicoli al giorno. Degli Angeli e Fiasconaro ricordano che con l'ex ministro Toninelli, i 5 Stelle erano riusciti a portare l'attenzione su una soluzione più semplice ed economica, dall'impatto ambientale molto minore, cioè la riqualificazione dell'ex Statale 10, che presto passerà sotto il controllo dell'ANAS.